Oggi l'asse delle costruzioni sta mutando verso tutte quelle attività che precedentemente sono state tralasciate per gli impegni del 110, quindi stiamo dedicando tanti lavori per ambienti urbani, strade, parcheggi, piazze, questi possono essere lavori pubblici o privati. Inoltre il cambiamento climatico enfatizza la necessità di interventi urgenti influenzando la domanda di materiali sostenibili, sistemi di drenaggio e la gestione delle risorse idriche. Oggi il cambiamento climatico ci presenta il conto per il rapido sviluppo urbano che è avvenuto nel dopoguerra. Ci dobbiamo a dover fronteggiare allo stesso tempo inondazioni e crisi idriche. Investire in sistemi di drenaggio e riutilizzo delle acque non solo risponde a un'esigenza ambientale, ma rappresenta una strategia commerciale intelligente per i riventitori, posizionandoli come leader di mercato in crescita su questioni ecologiche. Starplast ha mosso i suoi primi passi circa 15 anni fa. Già da allora ha sempre avuto come visione quella dell'attenzione all'ambiente e sostenibilità. Infatti la ricerca accurata nel produrre sistemi innovativi rivolte al bene primario, l'acqua, è sempre stata nel nostro DNA e lo sarà sempre. Vi vorrei leggere alcuni passaggi della carta europea dell'acqua. È una carta europea che è stata scritta nel 1968 a Strasburgo. Non c'è vita senza acqua. L'acqua è un bene prezioso e indispensabile a tutte le attività umane. Quando l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita all'ambiente naturale, deve essere in condizione da non compromettere i possibili usi. Già questa la dice lunga. Pertanto ognuno di noi dovrebbe fare la propria parte, accumulare quella meteorica e riutilizzare per altri scopi quella idrica. Mi concedo con il nostro motto che abbiamo cognato già appena partita, appena partita nata Starplast, risparmia il tuo oro blu. Grazie. Grazie.